non è una foto quella che state guardando ma la vita di un uomo e quando sono arrivato a Varignan quando ho visto padre Marella mi ero spaventato proprio perché vedere quest'uomo vestito di nero con questa barbona bianca non l'avevo mai visto una cosa del genere e difatti mi allontanavo io ho anche delle foto che a tutti i ragazzi li correvano incontro io invece stavo per ultimo perché avevo paura dopo tra una caramella di qua una carezza di qua di là mi sono affezionato proprio e sono stato lì fino a 13 anni i contatti con i ragazzi è stato subito per me loro sono i miei ragazzi sono i miei i miei figli che io devo far star bene loro piace mangiare bene sono Aurelie vengo dal Camerun e ho 43 anni non è facile per me vivere lontano dai miei figli e dalla mia terra però ho sempre cercato di essere felice beato il grembo che ti ha portato il seno che ti ha allattato beato uno beato quello lì e qual è la risposta di Gesù? Beati una gioia non è mai al singolare e non è mai di qualcuno privilegiato qualche volta lo pensiamo e qualche volta il mondo porta a credere questo e anche ad accettare al contrario si è beati insieme beati al plurale possibile per tutti mi chiamo Suleiman Kamara ho 23 anni sono nato in Gambia e vivo a Bologna da più di quattro anni in Europa sono solo mia madre e mia sorella vivono ancora in Africa a Bologna a Bologna a Bologna Grazie a tutti.